via salutati 15 milano bravo adesso che l'hai trovato però potevi anche andarci cos'è così continua cliccare e la funzione vocale non serve a una mazza 34 minuti rango 34 minuti non 20 stavolta vai vlog numero 3 stiamo per andare a milano alla festa del pirro partiamo all right so mr felassi is not feeling quite so jolly now because he's left his wallet at home so we got to go back a presto ragazzi no ma ti salva la vita c'è rango che è abbastanza ingriffato perché si è reso conto adesso 20 minuti che il posto è lontano e continuano a mandare milioni di messaggi il parcheggio non è andata male abbiamo parcheggiato dietro a un inglese guarda caso ramone buona sera siamo arrivati abbiamo trovato parcheggio finalmente rango fermo 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 ciao auguri allora devo fare il vlog della serata lui è il festeggiato guardate che aria da quarantena ciao non ho visto neichia in tutto vuoltre buona sera ciao ciao un po' e 1800 il mondo è 40 anni buttati al vento Non capivo perché c'era Pirootta stasera Chi è Pirootta? Eh Piro Vi facciamo il G7 Vi facciamo il G7 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 Auguri Piro Lui è il nostro festeggiato come sapete Questo è l'occhio del festeggiato Mi devo metterlo anche io Un po' perfeccio Il festeggiato è molto in forma Guardalo anche dimagrito Non ha più la panza Non mangio più farina 00 Che cosa mangi a pranzo in salatina Cosa mangi senza farina 00 Non è vero? Stiamo in salatina No No Non è vero No Non è vero Vero Poi comincia a salire in decente, poi viene in pubblico, piglia perciò per stare a questa rampica sulla piazza. E' il mio amico Pino! E anche questo compleanno ce lo siamo levati dalle palle! Bevi, bevi! Uno che è più importante.